Ecco, vedete altri componenti del gruppo che cantano, che inneggiano al Natale, che esprimono la gioia, la gioia che è presente in ciascuno di noi. Per un momento, per un giorno, mettiamo da parte le rabbie, le invidie, i rancori, mettiamo da parte i brutti pensieri e pensiamo che Gesù è nato povero. Sicuramente sì, questo è un messaggio molto importante che in questo periodo va sottolineato soprattutto. Palagiano, una casetta in cui si produce, in cui le massaie si danno da fare per cucinare, per realizzare i prodotti tipici. Sì, sì, i prodotti tipici vengono realizzati in tutto e per tutto, vengono proprio cucinati qui e poi i visitatori possono assaggiarlo tranquillamente. Però viene fatto tutto qui, in questa locanda che è in locanda così, a livello proprio naturale che è presentata.